Ciao, ciao ragazzi! Oggi andiamo a visitare a San Donato Milanese. C'è Ionis, Giamavi, c'è Fadosa, Muhammad, Sorella e Dora. Oh, che bello! Ragazzi, ci sono tante le case a Milano. Ci sono l'erba e i fiori. Ci sono colorate già rosa. Andiamo, Osso. Certo. Ci sono in piscina che fa Ionis lo sport. C'è la maestra che fa insegna con i bambini. No, indietro. Eh, papagalino, Osso, entriamo all'ospedale San Donato. Eh, ragazzi, Scarnizione sta mettendo sulla mano. Sta mettendo a largo la spina di sangue. E poi ti punge. Veramente? Eh, papagalino, devi mettere la spina di sangue. Che ti punge! Bravo, scarnizione. Babacaleno Mi è piaciuto A San Donato Milanese Ho visto tutte le case In piscina All'ospedale San Donato Ci vediamo domani La prossima volta Ciao ciao Grazie